buongiorno il capitolo 6 del vangelo di matteo continua oggi con i versetti 19 23 a introdurci nel mistero dell'amore di dio descritto dal discorso della montagna di gesù che soprattutto poi lo manifesta nel suo agire nel suo stile di vita nelle sue scelte e nelle sue azioni oggi gesù stesso ci invita a depositare il nostro tesoro fra le braccia del padre celeste il tesoro è quanto ha valore ciò a cui diamo importanza per un tesoro che si scopre si è disposti a dare tutto di sé la propria vita perché si dà il proprio cuore il cuore è l'ambito dei sentimenti e ciò che genera gli attaccamenti di cui abbiamo bisogno per vivere come persone il cuore però nella bibbia è anche l'ambito delle decisioni e delle scelte non solamente dunque emozioni ma anche volontà e di conseguenza comportamenti e atteggiamenti profondi il nostro cuore sarà sempre dove sta il nostro tesoro perché il cuore naturalmente cerca ciò che dà valore e senso alla vita per poter muoversi e camminare in quella direzione ecco perciò importante riconoscere che tante volte noi attacchiamo il cuore a cose che ci danno affanno e preoccupazione ma che non sono capaci di riempire il desiderio intimo di eternità ed infinito che ci abita per questo gesù che ci conosce bene sollecita la nostra ricerca a guardare oltre questa terra e a riconoscere che il tesoro autentico è solamente quello che è il profumo del cielo perché sono lì vi è eternità e infinitezza ma su questa terra perché il nostro cuore trovi veramente il tesoro che cerca Gesù ci indica anche la via di usare bene quel corpo dentro il quale abita lo spirito dell'immenso il nostro corpo e in particolare i nostri occhi che siano puri nitidi limpidi capaci cioè di guardare di leggere di immaginare di osservare solo quanto ci parla della bellezza di dio della vita dell'umanità della creazione insomma occhi che siano purificati dalle immagini dalle fantasie e anche dalle parole che fanno male che feriscono che generano violenza e aggressività occhi invece usati bene per guardare e per interiorizzare ciò che del tesoro parla amore e verità che sanno in questa vita già da adesso farci pregustare la bellezza della vita in dio buon cammino con lo sguardo rivolto al tesoro che sta nel ceno